salve a tutti bentornati a main cathedral vi parlo di un video che non lo so forse l'avrete visto interessa will ramos il cantante dell'orna shore il cantante dell'orna shore è diventato famoso perché una maniera incredibile di stare sul palco per il suo ciuffo biondino così e per la sua voce incredibilmente versatile e estrema chiaramente insomma l'orna shore sono una band diciamo di death core no molto 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 estrema will ramos in donna shore fa una ragazza molto bella e molto coinvolgente insomma per chi ama il genere tuttavia lui è diventato famoso anche perché se l'è giocata bene sui social nel senso che comunque lui è diventato un po il se vogliamo mike petto della musica estrema perché vi ricorderà ricorderete sono mike petton ventina di anni fa anche un pochino di più fit no more mister bangle insomma tutte le altre band di fantomas era il cantante che aveva timbro della sperimentazione vocale incredibile allucinante e insomma si si cercava di capire come fosse fatta questa sperimentazione in questo caso per quanto riguarda will ramos è stato effettivamente fatto ovvero gli hanno cercato in gola gli hanno messo un una telecamera in gola per vedere come fa a fare quel cantato quel cantato lì ovvero becco tutto nasce da un canale che si chiama the charismatic voice dove c'è una cantante di musica diciamo lirica una impegnante di canto che analizza il canto di diversi musicisti e ha notato che la roba della cosa positiva quanto al riscontro veniva in particolare quando analizzava musicisti metal perché c'era anche un po il livello strano di una cantante di un altro genere che loda o comunque si stupisce da questo punto di vista in questo caso stiamo parlando di uno che fa una musica molto estrema e quindi questo ha creato una serie di video che sono andati molto bene ovviamente sono in inglese e in cui la cantante la insegnante insomma di canto invita will ramos per fargli delle domande studiarlo poi questa cosa è andata avanti per diversi video ovviamente hanno avuto successo quindi gli erano fatti di tutti i colori ma quello più interessante è questo in cui gli fa fanno la laringoscopia mettendogli una camera in gola che è quello che vedete alle mie spalle ora una cosa che c'è da dire prima di tutto è che non è che will ramos sia l'unico che canta così anzi insomma è chiaro che c'è una legacy dietro di lui e parliamo un attimo di questa storiografia del cantato growl del cantato estremo del cantato del death metal e del black metal allora innanzitutto possiamo riscontrare due principali derivazioni base per quanto riguarda il growl dovrebbe venire da lemmi dei motoretti dalla voce rocker di lemmi dei motoretti ovviamente un'evoluzione quanto riguarda il cantato scream dovrebbe venire da rob alford dei judas prist mentre poi si insomma magari quello piace più questo è la base poi quando è iniziato insomma la legacy del death metal e del black metal ci sono stati in particolare dei punti di riferimento che si sono seguiti per quanto riguarda il death metal probabilmente insomma si può ricordare che Glenn Benton dei Dayside ha un certo tipo di cantato gutturale con respirazione particolare che poi lui ha furbamente un grande talento sin dall'inizio sovrapposto con un cantato scream chiaramente veniva fatto in post produzione però dal vivo ha fatto lo sforzo per alternarle poi ci sono per esempio cannibal corpse che risbarsa un tono molto più basso molto più oscuro molto più cavernoso contro quello di corpse grinder che vabbè insomma lui fisicamente c'è una cassa toracica e un collo che probabilmente funzionano già da sé come camera di risonanza insomma quindi come se appunto uno cantasse da una grotta perché lui è una grotta non l'orso del proprio la grotta a pensiamo anche a tantissimi altri noti come max cavallera che negli album sempre di sepoltura soprattutto sempre di più ha preso un tono che diventava più vicino a quello di Lemmy a quello di Thomas Rocco che voleva anche dare questo senso del punk e dell'hardcore che questa è stata una forte influenza di questo sforzo vocale più umano però poi vedendolo cantare dal vivo lui cantava più growl no più chiaramente death metal perché così si sforzava di meno personalmente uno dei cantanti che mi sono sempre piaciuti di più è jeff walker de cata no pensate insomma e si capiva benissimo quello che cantava nonostante però avesse questo tono graffiante quindi insomma era era qualcosa di più umano per quanto riguarda will ramos sicuramente la sua influenza principale quello che gli rode le scatole a vedere tutto questo interesse intorno al giovane will e demi di credo of field perché perché ci sono quegli scrim altissimi che personalmente quando io ho avuto la band 25 25 anni fa insomma avevo anche quei toni non riuscivo a raggiungere e qui è una cosa già interessante di quello che dice un ramos riguardo a come lui arriva a quei toni perché questa è la cosa più importante ma io non mi stanco non faccio uno sforzo perché la maniera in cui canto fa sembrare che io stia gridando molto forte beh questo è interessantissimo questa è forse la prima volta che lo scopriamo ufficialmente poi sicuramente ci sono tantissimi altri video in giro che dicono come cantare però lui dice no hai l'impressione in realtà sembra che stia urlando a squarciagola quando c'è lo scream ma in realtà è costante solo che viene modulato e poi vedremo come in modo da sembrare un urlo quindi fantastico e quindi sicuramente anche Danny utilizza questa tecnica qui ovviamente molto prima di lui perché credo of field si sono da molti più anni insomma sin dal fine anni 90 se non erro dunque quindi viene fatta questa laryngotomia questo medico che fa questa analisi e insomma si identificano diversi tipi di urlo da parte di Will che lui poi definisce in diversa maniera il fried pig squeal che sarebbe il grungito del maiale fritto e il grungito del maiale anche c'è un altro poi c'è il grull c'è lo scream insomma ha diversi tipi di di urlo però si osserva da questa camera all'interno della sua laringe la sua forma particolare che si apre e si chiude come se avesse una bocca verticale per non definire altro e si apre e si chiude e che cosa cosa fa effettivamente se osserviamo ecco la laringe si si deforma cioè lui contorce quel piccolo muscolo che normalmente si apre come una porta destra e sinistra ma lui invece lo contorce lo contorce quindi tutti lo contorcono chiunque faccia questo lo contorce in questa maniera uno va sotto uno va sotto che è un po' come come se lo facessimo con le mani ma in realtà lui lo fa dal di dentro usa la saliva per creare un rantolo la saliva e questo fa un suono la voce l'aria il tono passa attraverso l'acqua della saliva del muco ma poi quando crea un urlo ancora più particolare questo urlo che sembra venire da un lovecraftiano quasi ecco qui è molto interessante perché non contorce solo la laringe ma tutto l'apparato vedete la lingua tutto si sposta e crea come un tubo si crea un tubo e quindi il suono rimbalza da tutte le parti è chiaro che il Ramos non è l'unico che è in grado di fare questo io immagino che tantissimi poi si siano stupiti di questa RIPPING ACCIDATED FROM YOUR FUNGER SUBS AND RIPPING SURE AS PLEASURE RIPPING ACCIDATED RIPPING ACCIDATED FROM YOUR FUNGER SUBS gnaaaaaaaaaaaaaaz gnaaaaaaaaa gnaaaaopardi Ramos non è l'unico a fare questo tutti anche a livello appunto naturale come è stato per me in giovinezza che hanno cantato con la propria band dicono ok ma questo qualche modo lo so fare io quello che è bravo a fare conaging Ramos e a tenerlo per lungo tempo per fare un concerto poi un concerto ogni giorno e lui dice no vabbè non mi fa male In realtà vediamo che la laringe è arrossata, tuttavia quello che automaticamente, lo dice anche la dottoressa, lui è in grado di fare, è di autocurare, cioè di fare in modo di non stancarsi troppo. Questa è un'ambra curano te, cioè il fatto di refrigerare, grazie alla saliva e al muco, le corde vocali in modo tale che non si rompano, perché non si arrossiscano, non si crea una malattia che poi alla fine chiaramente lo debiliterebbe, magari lo debiliterebbe per sempre. Tutto lui è giovane, da solo 30 anni, quindi per adesso insomma riesce più facile. Poi quello che lui è bravo a fare è abituato a saltare da un suono all'altro, da un suono all'altro, come se fosse una prestazione atletica, cambia velocemente la laringe da una posizione dell'altro. Questa è una capacità che viene con l'allenamento. Oltretutto è un allenamento che si può dire piacevole, perché come si impara a cantare così? Ovviamente si devono fare delle prove, ci si mette di impegno, tuttavia l'allenamento può avvenire cantando sulla musica di alto. Cioè mettiamo la musica a palla, la mettiamo con le cuffie e cerchiamo di riprodurre il cantato di altri cantanti che fanno delle performance simili. E questa è la magia del cervello umano, perché dici sì, ma come fa poi il cervello a capire come fare quel tipo esatto di timbro? Beh, pensate a chi fa le imitazioni delle voci, pensate a Jim Carrey, o pensate anche solo a quelli che doppiano i cartoni animati. Per esempio, io riesco a fare le vochine in un divertente da paziente. Guardate, non è che io mi sono mai studiato come fare questa voce, però sono in grado di farle. Perché i neuroni specchio che noi abbiamo all'interno del nostro cervello ci permettono di tracciare un sentiero inesistente ripetendo idealmente quello che ha potuto fare qualcun altro. Cioè il cervello umano è così complesso che noi riusciamo anche a immaginare inconsciamente fondamentalmente che tipo di movimenti vengono fatti internamente anche con le piglottide, le corde vocali, la larince per ricreare un suono. Pensate anche al tizio di colore di scuola di polizia che faceva il rumore di qualsiasi cosa. Questo è una capacità del cervello, ovviamente non tutti, però è possibile raggiungere quel livello che è arresto appunto Will Ramos, considerato tra i migliori al mondo in questo momento. E tra l'altro, insomma, vi chiedo di iscrivervi al canale se vi piace quello che facciamo, mettere un like, commentare. Se vi va, se pensate che lo sforzo che facciamo sia meritevole, insomma, offriteci un caffè o metto un link a PayPal nei commenti. e vi lascio mostrandovi come, secondo me, Will Ramos assomiglia molto a qualcuno che ci piace. Forse, ecco, Will Ramos è Corrado Puzza. Perfetto. Grazie e alla prossima.